Nelle ultime ore l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ritorna a far parlare di sé con pesanti accuse che non sono passate inosservate agli organi di stampa. Tutto cominciò con quell'esplosione con la bomba carta piazzata sotto casa di Fabrizio Corona a Milano che in seguito ha dato inizio alle indagini e portato al ritrovamento dei 2,6 milioni di contanti nel controsoffitto e all'arresto del fotografo dei VIP. Ed oggi l'ex re dei paparazzi fa un nome ed un cognome al processo che lo vede protagonista. Penso che a mettere quella bomba, detto in aula, sia stato Luigi Mario Favoloso, un nome che è tutto un programma, il fidanzato della mia ex moglie Nina Moric. Il movente sarebbe stato fargli togliere la custodia del figlio Carlos, nato dalla relazione con la modella croata. Un'accusa pesantissima che viene lanciata nel mezzo del procedimento in cui Fabrizio Corona è imputato per intestazione fittizia di beni.